Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi torniamo a parlare di Ice Cream 5 Perché oggi finalmente scopriremo il macchinario segreto del padre di Rod Dopodiché preso da Rod stesso e migliorato Ma non solo, perché oggi voglio fare pure alcuni esperimenti con il nostro caro gelataio Visto che lui fa sempre gli esperimenti con noi Questa volta saremo noi a fare gli esperimenti con lui Voglio vedere che cosa succede se il gelataio diventa piccolo 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 come un mini Rod E i mini Rod li facciamo diventare grandi come Rod E quindi che ti ripartiamo subito, ma come sempre ci siete qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà per il personaggio associato a voi sarà Rod Se invece di like sarà dispera il personaggio associato a voi sarà il mini Rod Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quelle personaggi sotto associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Così anche voi farete parte della Panino Family Ci daremo anche a ringraziare alcuni di voi che hanno fatto l'abbonamento Che sono iPowers, Fatio Uncumbria e Alex06Tube Grazie mille davvero tanto per l'abbonamento Ma adesso partiamo subito Cominciamo, facciamo subito gioca E tocchiamo gioca Si parte, si parte, si parte, si comincia Non vedo l'ora, non vedo l'ora Ok, devi uscire da questa gabbia per salvare i tuoi amici Quindi allora, come prima cosa rimetto la trasparenza dell'interfaccia Faccio altrimenti qua veramente Non metto il pulsante Facciamo accadere qua la solita chiave inglese Che ormai veramente con tutte ste chiave inglese Potrei aprirmi una ferramenta Un negozio di chiave inglese Però dobbiamo fare attenzione al mini Roddino Che quello se ci vede non è tanto amichevole Sentite, non mi interessa Mini Rodd, guardami pure Non mi interessa se mi vedi o no Se vai a far l'allarme Diciamo che voglio vedere altre cose Eccolo qua Borisetto caro Ma come stai? Ma come stai? Allora, direi di mettermi innanzitutto in un punto sicuro, no? Ad esempio dentro un armadio dove Rodd non mi può prendere Perché adesso partiamo con l'esperimento Trasformeremo Rodd in qualcosa di piccolo come un mini Rodd E i mini Rodd li facciamo diventare più grandi Mamma mia! Allora, come prima cosa mettiamo il GoddModd e tutto quanto Noclip, non ci interessa il Noclip Possiamo pure non metterlo Voglio mettere innanzitutto qua il GoddModd Perché vorrei vedere la giusta dimensione per i mini Rodd Mini Rodd, dove siete? Eccolo qua il mini Rodd, eccolo qua Allora, mettiamo pure il Ghostmodd Andiamo qua su Enemy Menu che si trova Ok, abbiamo trovato qua Mini Rodd, facciamolo diventare grande in questo modo No, ancora più grande, lo facciamo Due In questo modo vediamo qua Guardate qua il mini Rodd quanto è grande E adesso Rodd Lo facciamo diventare piccolo, piccolo, piccolo Come un mini Rodd Allora, qui sto menu veramente piccolo per trovare qua Allora, su facciamolo diventare piccolo Eccolo qua Guardate qua Rodd, com'è diventato Com'è diventato Rodd Allora, adesso aspettiamo che lui se ne vada verso il... Cosa, il garage, quello che è Su Rodd, ti apro la porta Visto che sei piccolo, piccolo, piccolo Veloce, veloce, veloce Adesso torniamo indietro dove eravamo Questa volta tolgo il Godmod E il Ghostmod anche E facciamo una partita in queste condizioni Ciao Boris Hai visto il tuo padrone come è diventato piccolissimo? Ok, entriamo qua dentro Velocemente Cerchiamo di trovare subito qua Ecco qua Ma cosa? Ma questo mini Rodd è rimasto uguale Ma non si è ingrandito questo mini Rodd Ma perché? Niente, a quanto pare questo mini Rodd vuole restare così Ok, torniamo qua dentro Togliamo qua il Godmod E il Ghostmod E adesso facciamo una partita in queste condizioni Ciao mini Rodd Via, via, via Ok, sono diventato visibile Tutti quanti possono vedermi Come se fossi praticamente in una partita normale Come se giocassi normalmente ad Ice Cream E dobbiamo fare molta attenzione questa volta Non al mini Rodd Ma al cosetto che è diventato gigante È diventato grande Non è più un mini Rodd Prendi quel trofeo Perfetto Velocemente Andiamo Andiamo di qua Facciamo il giro da questo lato Perché di là potremmo trovare il mini Rodd Che non è più mini Ok, non è di qua Vediamo se sta di qua Non è neanche da questa parte È dove si è cacciato il mini Rodd Non più mini Mi è sparito Mi è sparito definitivamente Ma dobbiamo fare molta attenzione Perché qua invece c'è Rodd Piccolo, piccolo, piccolo C'è Rodd piccino Guardatelo qua Ma mi fa veramente tenerezza Vederlo riparare così da piccolo il furgone Ok, aspettiamo soltanto un attimo che si alzi Mettevoci qui all'angolo In modo che lui non possa vederci Dopodiché aspettiamo che vada a prendere qualcosa Per riparare E infine andiamo ad abbassare la scaretta Dove sarà andato Rodd? Dove sarà andato a prendere la chiave inglese? Ok È andato forse qui sotto a prenderla Proviamo a vedere Non si vede niente da qua Da qui sopra non si vede niente Ok Ma sta andando di là Eccolo qua Guardatelo qui Quanto è piccolo, piccolo No Ma veramente mi fa tanta tenerezza Vedere quel coso Così piccolo Cercare di riparare un furgone Va bene Andiamo qua Mettiamo Togliamo questa vite Perfetto Ok Questa l'abbiamo fatta tranquillamente Togliamo anche di qua Vorrei pure fare tipo un bel troll con Rodd Ok Rodd Vieni qua Sono qui Roddino Ah 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 Ma veramente mi fa troppa tenerezza È veramente troppo tenero Non so chi è più tenero fra lui Ho il mini Rodd su però non ti bloccano Non capisco perché alcune volte mi si blocca il personaggio Vieni 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 Andiamo a salutare l'altro tuo amichetto Che adesso è diventato un amicone Il mini Rodd gigante Ah 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 Vieni 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 Roddino Vieni qua Ok Prendiamo qua una trappola Vediamo cosa succede Boom Preso dalla trappola E guardatelo come è diventato Rodd Ma che roba Ma che roba Eccolo qua l'altro amichetto Rodd Mini Rodd Ma cos'è? Oh veramente troppo troppo divertente Vabbè sentite Adesso muoviamoci Ciao Rodd Stai pure in quel modo Non ti preoccupare Continua a dormire in modalità allungata Me ne vado di qua Vedevo che cosa succede nel filmato che compare qua Con Rodd che però è diventato in quel modo Sono veramente curioso Ok Carri 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 Andiamo lungo questo condotto E vediamo dove ci porterà Dove andremo a finire Vabbè lo sappiamo dove andremo a finire Ma insomma togli qua Ok Rodd Rodd Ma è tornato normale Ma è tornato normale Nooo Mi sarebbe piaciuto Rivederlo Nella modalità Piccola 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 Come l'abbiamo visto prima Vediamo adesso cosa succede Perché non lo vedo? Ah no no È tornato grande Così nel filmato Lo rivediamo grande E non è giusto però così Non è giusto Vabbè Andiamo avanti Vediamo qua gli altri mini Rodd Come sono Se anche qua sono gigante Oppure sono piccole Nooo è piccolissimo È piccolissimo Ci penso io Ci penso io Andiamo qua nelle enemy menu Sempre se riesco a trovarlo Che qua è veramente piccolo Da trovare le cose Ok Cambiamo qua il mini Rodd Eccolo qua E adesso direi di ingrandirlo Ok Vediamo se lo stiamo ingrandendo Ma più o meno Io lo vedo sempre uguale Lo vedo sempre uguale Niente Mi sa che qua i mini Rodd Non li posso ingrandire tutti quanti È veramente un gran peccato Mi sarebbe piaciuto Vederli tutti quanti Grandi giganti Ma vediamo se gli altri Invece si sono ingranditi Niente Nessun mini Rodd È stato ingrandito Tutti quanti piccini piccini Sono rimasti Nooo Ma perché i mini Roddini Non vi ingrandite Perché Io ci tenevo così tanto A vedervi grandi E vabbè Vediamo gli altri invece Magari soltanto uno In particolare Si ingrandisce Chi lo sa Chi lo sa Andiamo da questo lato Veloci 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 Perfetto Mini Roddini Dove siete Vediamo se troveremo Il mini Roddino ingrandito Lui non è Quindi a quanto pare In questo modo Devono correggere il bug Del mini Rodd Che non si ingrandiscono Tutti quanti Via 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 Scappiamo 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 Veloci Veloci Andiamo di qua Eccolo qua Il mini Rodd che si è ingrandito Lo abbiamo trovato Vediamo cosa succede Se mi viene a prendere Niente A quanto pare Il mini Rodd ingrandito È come se diventasse Più debole Guardate qua Ma che roba Ma che roba Veramente troppo belli Sti mini Rodd ingranditi Sono veramente Troppo troppo belli Va bene Va bene Adesso direi di fare una cosa Direi di parlare Del macchinario segreto Di Joseph Sullivan Che è poi diventato Il macchinario segreto Di Rodd il gelataio Allora mettiamo tutto quanto God mod Ghost mod E noclip Così possiamo parlare In tranquillità Chiacchierare Senza a nessuno Che ci venga a dar fastidio Andiamo 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 Veloci 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 Ed eccoci qua Andiamo In questo punto Togliamo Quello clip Perfetto Ed eccoci qua In questo posto Ci siamo in realtà Andati già nel video di ieri Vi avevo fatto vedere Questo macchinario Questo strano macchinario Che cosa rappresenterà mai In realtà Ne abbiamo parlato Un po' così brevemente Ma oggi Scopriremo insieme Che cosa nasconde E proveremo ad entrarci Anche dentro Per vedere Che cosa ci sta Questo macchinario Tecnicamente Come dice il cartello È un macchinario Molto molto particolare C'è scritto Una macchina straordinaria Capace di estrarre Il sapore E conservarlo In un liquido viscoso Perfetto per realizzare Le creazioni più stravaganti Qualcuno vuole un gelato Al gusto di albero di Natale Un macchinario Costruito da Joseph Il padre di Rad Che come ben sappiamo Inizialmente era un gelato Nor... Eh sì Un gelato Vabbè Era un gelataio Normale Ma poi all'improvviso Boom È diventato Un genio delle creazioni Un inventore Uno dei migliori gelatai In tutto il mondo C'è veramente qualcosa Di spettacolare Oltre ad essere Il miglior gelataio Era pure uno dei più grandi Innovatori A livello tecnologico Ma cos'era questo Joseph Era una persona normale Che però Ha avuto un contatto Ha rubato La pozione segreta Di Sister Madeline Questo magari potrebbe Spiegare perché Lui riesca a creare Certi gelati No Spiegherebbe il perché Lui è riuscito a diventare Un gelataio così famoso Però Questo non spiega Come mai è diventato Un inventore Noi l'abbiamo sempre Trascurata sta cosa qua Ma Joseph Come è riuscito A diventare un genio Delle invenzioni Un creatore Un visionario Che nessuno ai tempi Poteva riuscire a fare Cioè veramente Le tecnologie che faceva Joseph Sono cose che ai tempi Non si potevano fare Non che oggi Si possano fare Cioè Oggi non esiste ancora Un macchinario Che ti trasforma Con un cogetto Ingelato Però comunque Se Joseph è riuscito A farlo Un motivo c'è stato Cosa non è mai successo Un quadro infatti racconta Che Joseph Ha avuto un incontro No Con qualcosa Che noi ancora Non sappiamo realmente Con chi è avvenuto Questo incontro Si potrebbe pensare Che ha avuto un incontro Con Nazareth Nazareth Lo ha trasformato In un grande inventore In un grande gelataio E così potrebbe Spiegare brevemente Ciò che è successo Però Realmente ancora Non lo sappiamo Ma vediamo meglio Questa invenzione Che ha fatto Mettiamo il noclip Così possiamo entrare Anche qua dentro Questa invenzione È fatta in questo modo C'è questo contenitore Qui sopra Poi un tubo Che va di qua Che porta all'interno Di quest'altro contenitore Con un rubinetto Quindi molto probabilmente Qui dentro Si inseriva Il materiale Che poi veniva trasformato O comunque Un materiale Che veniva utilizzato Per poter creare Questo famoso Liquido viscoso Che usciva Da questo rubinetto E questo liquido viscoso Poi veniva trasformato In gelato Ma vi ricorda qualcosa Questo coso qua Questo coperchio In questo modo Sembrerebbe Sapete che cosa L'inceneritore Che c'è nella discarica Quello che noi abbiamo visto Delle immagini Di Ice Cream 5 Quindi forse Quella discarica Potrebbe essere Una delle parti Di questo macchinario Che per Rod Che per Rod ha ripreso L'ha ricostruito A modo suo Magari in un modo Molto più grande Molto Molto più bello A livello anche Tecnologico Vabbè Bello no Perché se si trova Dentro la discarica Non è tanto bello Però comunque Qualcosa di migliore Ha migliorato Questo macchinario Infatti Rod stesso Su Ice Cream 1 Parla dell'aggressione Di un macchinario E potrebbe essere questo Qui sopra C'è anche Sta cosa qua Che non sappiamo Di preciso Cosa può essere Forse anche qua C'è un altro liquido Particolare Che non sappiamo E qui c'è tipo Una sorta di Mezza bicicletta Con la catena Che tecnicamente Dovrebbe dare Energia A questa cosa Quindi pedalando L'oggetto si mette Qui dentro Poi uno si mette A pedalare Tramite l'energia Che viene creata Pedalando Il macchinario Si mette in funzione Creando questo liquido Viscoso E questo è uno Dei più grandi Macchinari Creati da Joseph Forse questo gelato È stato creato Proprio in questo modo Con Joseph Che ha iniziato Lì a pedalare A pedalare Fino a quando Non ha creato Sta roba qua Si c'è anche Da dire una cosa No Per fare tutto Sto gelato Pedalando Come minimo Deve essere diventato Il campione Di ciclismo Non a livello nazionale Ma proprio a livello mondiale No perché qua Di pedalate Ce ne sono Da fare qua Cioè veramente Deve avere certe gambe Sportive D'atleta Per fare tutto Quel gelato Con sto macchinario Comunque 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 Questo macchinario Come vi dicevo Potrebbe essere collegato Con la discarica Quindi i rifiuti Vengono messi lì dentro E Rod Magari riesce a preparare i gelati Quindi forse i gelati Che vende Rod Sono costruiti Con sta roba Della discarica Spero di no Perché comunque Non è che sarebbero Dei gelati Molto molto buoni Però Per il momento Possiamo soltanto Fare delle ipotesi Delle teorie Ma adesso proviamo a vedere Che cosa c'è Dentro questo macchinario Vediamo qua Che cosa sta qui dentro 3 2 1 Ed entriamo dentro Vai Ok Ok E no Per il momento Non c'è niente Peccato Avrei voluto scoprire qualcosa Di nascosto qua dentro È veramente un gran peccato Va bene Va bene Comunque Adesso andiamo sempre fuori Perché vi faccio vedere Anche un'altra cosa Sempre collegato Con il macchinario No Di Rod De Joseph E se tutto quello Fosse collegato Anche a questo Coso qua Questo cilindro In questo modo Forse Probabilmente Dentro questo cilindro Potrebbe esserci Del materiale Che poi viene trasformato In gelato O proprio questo cilindro qua Potrebbe essere Il macchinario stesso Chi lo sa Potrebbe essere Quindi comunque Tanti misteri Si ce l'hanno Dietro Joseph E quindi Che cosa potrebbe Nascondere Joseph Perché Voleva fare Tutta questa roba qua Vabbè Joseph comunque Era un essere umano Non a differenza di Rod Joseph magari Voleva fare tutto questo Per il successo Per poter raggiungere Il successo Il che è una cosa normale La maggior parte Degli esseri umani Vogliono avere Il successo nella vita Invece Rod Perché vuole avere Tutte queste cose qua Qual è lo scopo Del gelato io stesso Lui ricordiamoci Che non è Un essere umano Come tutti gli altri Lui è qualcosa Creato da un demone Ma soprattutto Che soffriva anche Di disturbi Molto Molto particolari Delle ossessioni Veramente troppo strane Però ce l'aveva Rod A quanto pare E ce lo teniamo così Quindi Investigherò meglio Su questo segreto qua E preparatevi Perché molto presto Potrebbe esserci Un video dove Potremmo scoprire Uno dei segreti Fui nascosti All'interno di questa fabbrica E quindi che dire Per il momento Direi di finire Qual il video Fatemi sapere cosa Ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate Se vi siete iscriviti Iscriviti al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo In un prossimo video E come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buonanotte Ciao a tutti Buonanotte Buonanotte